Salve, sono Serena Napoli, coordinatrice segretaria della Vale Immobiliare. All'interno dell'azienda mi occupo degli aspetti della segreteria, ma anche degli aspetti burocratici, quindi di attività legata alle pratiche, al fine di far sì che i clienti stipulano dei contratti non solo di locazione, ma anche di acquisto. Mi trovo all'interno dell'azienda perché entrambi ci siamo scelti, in quanto i miei valori con i valori dell'azienda combaciano a livello di onestà, di aiuto verso il prossimo, ma soprattutto di trasparenza. All'interno dell'azienda si respira un ambiente di gioia e allegria, infatti con i miei colleghi non solo si starano rapporti professionali, ma anche personali. Sono veramente felice di lavorare all'interno di questa squadra, augurandomi un futuro pieno di ambizioni e prospero. Vale Immobiliare, diamo valore alla tua casa.